Musica Continuo a raccogliere le segnalazioni dei cittadini per cercare di dare risposte ai cittadini, sono un consigliere comunale, sono stato eletto per questo e devo portare nelle sedi competenti, assessorati, uffici tecnici, quei problemi per cercare di risolverli. Chi pensava che Luigi Abbate fosse diventato altro, sol perché non ha messo la firma e vi ho spiegato il motivo, io resto un consigliere di strada che vuole affrontare e risolvere i problemi. Mi trovo a Lama, precisamente in via Begonie e vedete questa strada, siamo praticamente alle spalle del Residence Pezzavilla, è una strada a doppio senso di marcia pur essendo stretta e purtroppo gli automobilisti prendono velocità e paradossalmente pur essendo piccolina la strada diventa veramente una strada, guardate lì, guardate lì, ad alta velocità, vedete, le macchine rischiano di incrociarsi e di scontrarsi ma soprattutto, ripeto, ad alta velocità, l'alta velocità crea danni e per le macchine ma anche per i poveri abitanti, i poveri pedoni, perché vedete qui non ci sono i marciapiedi e diventa davvero rischioso per i numerosi abitanti delle villette. Allora noi non chiediamo chissà che cosa, chiediamo di mettere dei dissuasori di velocità, quelli consentiti dalla legge, quelli consentiti sono quelli per capirci i rallentatori, quelli in cui vedete c'è l'asfalto e le strisce bianche e rosse, ricoperto appunto il rialzo di asfalto, c'è l'asfalto diciamo rialzato che provoca il rallentamento ed è indicato dalle strisce bianche e rosse. Come ce n'è uno proprio all'entrata proprio diciamo in fondo, allora quello che chiedono le persone, gli abitanti di questa zona è perché non mettiamo e qui dove c'è all'altezza dello specchio un bel dissuasore di velocità come quello che sta in principio all'inizio e mettiamone un altro in fondo di modo che cerchiamo di rallentare, di frenare queste corse folli. Ripeto, rischi per gli automobilisti ma soprattutto per gli abitanti, per ripeto, perché guardate qui non ci sono marciapiedi per cui nel momento in cui uno cammina ha paura, deve camminare rasente al marciapiede sperando che poi le macchine, vedete, che vengono da un lato e dall'altro non vadano davvero a colpirlo. Io mi rivolgo agli assessorati competenti, mi rivolgo ai lavori pubblici, mi rivolgo alla polizia locale, alla viabilità, quindi io penso che siano degli interventi che con poco si possono realizzare con una spesa minima ma soprattutto garantiamo la sicurezza dei cittadini. Sono, lo ripeto, un consigliere che vuole dare risposte e se queste risposte si danno, noi al di là di tutto, a me non frega nulla degli schieramenti politici, soprattutto, se permettete, garantiamo la vita alle persone che viceversa in queste condizioni rischiano davvero di metterla a repentaglio.